Pronto, sono Derrick. Ehi, Coster, sei passato in edicola? No, perché? È in vendita la prima videocassetta di una raccolta sulle tue prime indagini. Ci sono anche le mie in una serie diversa. È un'occasione unica per vederle e rivederle. Corro in edicola! Aspetta, ci sono anche... Per la prima volta in edicola, le più appassionanti indagini dei due grandi investigatori. A sole 9.900 lire, due videocassette, un classico del giallo e le prime puntate di due romanzi gialli d'autore. Visto che offerta! È incredibile!